Incendio nella serata di ieri alla cartiera Burgo di San Giovanni di Duino. A prendere fuoco per causa ancora in corso d'accertamento, è stato il trasformatore di una cabina elettrica nel reparto di miscelazione e preparazione in pasti, con cui poi si dà vita alle varie qualità di carta. Un dispositivo elettrico da 10.000 volt. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, una da Opicina e la seconda dal distaccamento di Monfalcone, in supporto pure ulteriore personale con un autofurgone munito di bombole d'aria di riserva. A causa dell'elevata concentrazione di fumi che si sono sviluppati dall'impianto elettrico, infatti i pompieri hanno dovuto indossare gli autorespiratori per mettersi all'opera. Gli specialisti hanno spento l'incendio, non senza qualche difficoltà, utilizzando esclusivamente gli estintori. Successivamente sono iniziate le verifiche e la messa in sicurezza dell'intero impianto. Per fortuna nessuna conseguenza per gli operai o altre maestranze dello stabilimento.